Giampiero Leombroni sarà il nuovo commissario straordinario per la costruzione del depuratore di Pescara. L'annuncio è arrivato dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a margine della conferenza stampa, per annunciare il piano di risanamento dell'Arap, l'agenzia regionale per le attività produttive. Leombroni, attualmente a capo dell'Ersi e commissario straordinario dell'Arap, già impredicato di diventare il nuovo amministratore di ACA, ha spiegato i contenuti dell'incarico che a breve verrà formalizzato dal governo. Si spera che si possano attivare procedure commissariali che consentono l'accorciamento dei tempi, generalmente dovuti all'approvazione delle fasi iniziali della progettazione, dell'espletamento della gara, in maniera da tentare già per la prossima stagione estiva di dare un mare molto più pulito di quello che abbiamo avuto quest'anno. Diciamo che probabilmente per l'estate 2018 sicuramente avremo una condizione del fiume e della depurazione molto più adeguata all'esigenza che esprime un territorio come l'Abruzzo che viene percepito come essere la regione verde d'Europa. Per quanto concerne l'Arap, D'Alfonso e Leombroni hanno annunciato il dimagrimento dell'ente. Oggi il costo del personale che ammonta 5 milioni di euro incide per il 53% sul fatturato. 8 dirigenti e 15 quadri sono troppi rispetto alle unità operative. Non saranno toccati i presidi territoriali ma ha riorganizzato il personale posti in essere demanzionamenti e prepensionamenti. Sul fronte operativo la nuova Arap dovrà rendere il territorio idoneo all'installazione di nuove imprese agendo sulla depurazione e l'approvvigionamento idrico oltre che sulla creazione delle infrastrutture internet di ultima generazione. Arap quindi si occuperà delle bonifiche dei siti inquinati a partire da bussi e delle discariche oltre alla rete a fibra ottica. Inoltre sarà completato il catastro dei siti produttivi. Qual è l'ambizione della regione? Di inaugurare una nuova stagione di attrazione di investimenti perché queste realtà sono nate non per gestire carte o dossier ma per fare in modo che si trovino bene gli imprenditori che già operano e gli imprenditori che devono arrivare.